Oddio, ma che caldo che fa! Per essere in gennaio c'è un caldo, vero Ani? Sì, ma la ventichiamo. Allora, mamma mia. Aspetta, Ani, visto che fa così caldo, non ci sono dei ghiaccioni in casa? No. Come no? Allora, ma sicura che non abbiamo delle formine? Aspetta, ma io li avevo viste, delle formine dei ghiaccioli. Andiamo a vedere. Ok. Non c'è, anche io. Andiamo in prima, per provare. Non c'è. Ma io mi ricordavo che c'erano delle formine. Ma sì, mi ricordo, era dunque dentro. Eccole! Eccole! Eccole, vediamo qui. Però, aspetta, come si fanno? Ah, è vero. Ah, fa qui, io lo so. Siamo a mettere della Coca-Cola, poi qui ci possiamo anche mettere l'estate. E poi l'antenna con il latte. Vero, che buona. Aspetta, ma come fa di diventare i ghiaccioli? Eeeh, diventa tipo gelato. Non vedo l'ora di mangiare. Allora, facciamoli. Ok, prepariamo tutto sul tavolo. Questa cosa, ragazzi. Seconda cosa. Aspetta, che cosa? Seconda cosa. No, forse anche la quarta. Ma bambine, cosa state facendo? Eh, stiamo facendo i ghiaccioli. Oggi fa veramente caldo, c'è stato un sole fortissimo fino adesso e avete avuto una buona idea. C'è il frigorifero aperto, chi è che lo chiude? Allora, abbiamo... Ma lo sapete che queste formine sono le formine dei Calippo? Sì. Io quando ero bambina li mangiavo sempre. Allora, bimbi, abbiamo preso tutti gli ingredienti. Adesso bisogna... Cosa facciamo? Bisogna sciogliere la Nutella nel latte. Più Nutella metti e più è corposo e più invece sarà nutelloso, ma tipo gelato, secondo me. È molto... Mmm, guardate. Wow. Wow. Wow, questo Calippo sarà il mio. No, è il mio. No, è il mio. Lì che c'è due. Eh sì, ci conviene farle due, perché altrimenti so già che poi li tigremo per chi lo mangia. Uno per me, uno per me. Eh, cioè uno per me e uno per te. No, due per me. Quanta Nutella che mangi, Anastasia? È pesante, è vero? La Ferrero mi dovrebbe risarcire. Guardate. Gira, gira. Dai che proviamo a fare il primo. Mamma mia, che buono. Stop, stop. Uppuzza. Ne ho messo troppo? Vabbè, chiudilo. Se riesce a chiuderlo. E se invece ne ho metto un po' di qui. Rovescione un pochino. Anni. No, attenzione. Dai. Basta. Ok. Chiudiamo il primo calippo. Evviva. Andiamo a metterlo in frigo. Mettiamo in frigo il primo calippo. Mettilo qua sotto. Sì. Ah, sì. Metto qui. Ok, primo calippo in frigo. Anni, pronta per il secondo calippo? Pronta per il secondo calippo, Anastasia? Alla lucella. Stop. Wow. Oh, no, metti, 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 metti quella, la parte più buona. Tant'è, la parte più buona. Wow. Anastasia. Anastasia. Bu, perfetto. Chiudiamo. Adesso è il mio. È il tuo. Quattro. Sì, voilà. E non fa il calippo. Chiudiamo il secondo calippo. Allora, il terzo pane? Cucanetti. Allora. Benissimo. Io invece la poppa c'è in frattata. Mamma mia, apri una? Fai la con la tutta. Quella mia. Apri e tieni. No, è meglio farlo così. Ah, ah. Asciò. Mi piace. Ancora buona, non avere buona. Ho paura che cade tutto. Ok. Buon. Benissimo. Questo è per? Ma. Papà. Ok. Papà. 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 Per il tuo papà. Quello, papà. Io faccio quello della mamma. Ecco, quello all'estate. Ma io voglio quello della Nutella. No. E quindi chi sono quelli alla Nutella? Di chi sono? Di chi sono? Mettiamo il video, poi vediamo. Ultimo calippo, ma non per l'importanza. Quello all'estate. Come è che... Quello della mamma. Ma te, tienilo. Oh, fermi. Questa è veramente dura. Vai. Oddio, ma c'è un pochino a dentro. E non ce la faccio. Ah, ce l'ho fatta. Riesco a fare tante cose insieme. Ok. Ok. Mettiamo, mi chiamo, mi chiamo. Dai, ultimo calippo, insieme agli altri fratellini a congelarsi. Anzi, anzi, a Vanessa, a solidificarsi. Ah, a solidificarsi. Non è caduto. A solidificarsi. Eh, cade perché quando li chiudiamo... Quando chiudiamo il frigo bisogna chiuderlo lentamente. Ciao, ciao. Ci vediamo tra sei ore. No, non aprirlo più, Anastasia. Altrimenti cadono. Bevi tu? Caffè. Caffè all'estate? Ah. Ah. Allora, bimbe, dobbiamo attendere qualche minuto, vero? Allora, bimbe, ci saranno il caffè. Ci vediamo più tardi, eh? Ciao. Quando saranno pronti, probabilmente stasera. Adesso, Vanessa, tu cosa vai a fare? Veramente stasera, mamma. I compiti. I compiti. Veramente stasera. Sì, amore, ci vogliono un po' di ore prima che si insolidissano. Però mi aiuterò la mamma un pochino. Come sempre, del resto. Facciamo i compiti? Ciao. Ciao. Stasera che facciamo il video che li vediamo, c'è? 62 bottiglie di birra che vanno distribuite in cassette. Che contengono otto cioccolatini. Vanessa, guarda che le ore sono già passate delle otto. Guarda. Bimbe, sono le otto e mezza. Vanessa, stai ancora facendo i compiti. No, finito. Io invece mi stavano gli anni fa, guardando per l'area, perché per il cellulare ne sono qui a farlo sempre. Dai, che le ore sono passate. È diventato anche buio. Finalmente possiamo andare a prendere chi? I nostri... Aziali! I nostri calippo. I nostri calippo, dai. Li abbiamo andato a prendere. Sono pronti? Sì, guardate. Benissimo. Spostiamo i quaderni, altrimenti li sporchiamo. Ok, allora io scelgo. Io che gli ho più giusto, io che gli ho più giusto. Ok, vai. Abba, l'allacicicocococci, se ne ho metto copagheto, ma guarda. Opin. Vediamo cosa hai scelto. 13. Quello della mamma, all'estate. All'estate. Riusciamo a tirarlo fuori? E la mamma? Ma niente, assaggiatelo. È proprio calippo, eh? È proprio calippo. Vabbè, non riesco. Come no? Come è, amore? Vabbè, 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 vabbè. È buono? Posso assaggiarlo anch'io? Ok. Sono curiosa. Sono curiosa di assaggiare quello alla Nutella. Anch'io. Anch'io. Vediamo un po'. Ma, lo riesco. Lo riesco. Lo riesco. Scherzo. Che grazie, Dato. Che buono. Vabbè, vabbè, senti com'è. Anni, mi metti le mani sul caccia. Vai, Vabbè. Bene. Guarda. Guarda, mi hanno messo un in. Eh? Allora. Questo. E' il tuo. Nutella! Ah, mamma mia. Oddio. È curiosissima. Guarda, ti do una dritta. Spezza la punta e solleva. E ci vuole un attimino perché si devono comunque un pochino sciogliere. Sa di cioccolato alla fine. Eccolo qua. È morbido. È morbido, vero? Tipo gelato, più che ghiacciolo. Ma è buono? Sì. Devo assaggiarlo, devo assaggiarlo assolutamente. Scusate. È gelato. Oddio, ma è gelato, ragazze. Ma non è di pane. È gelata la Nutella. Carina di pane. Che genialata. Guarda. Adesso assaggiamo non più quello al cioccolato, ma quello alla Coca-Cola. Dio che è buono questo qua. Dovete far passaggiare al papà. Eh, allora Coca-Cola. Eccolo. Io guardo. Allora Coca-Cola. Vai, Vane, ce la fai? Hai capito come si fa? Dammi. Aiutti, ma non sono un po' di pane. Mi vedi che c'è. Oh, stai. Mi vedi che c'è. Ma va, siete due polpette. Le ultime parole famose. Guarda, non riesco perché. Io non tiro tutto il cuore. Ecco, sta arrivando. Ta-da. Caduto. Ta-da. Eccolo. Eh, ma non mi aiutate. Io non posso fare tutto. È uscito bene. È uscito bene. Qual è quello di papà? Quello alla Coca-Cola. Tieni, Anni. Guarda che... Tienilo così, Anastasia. Tienilo così. Allora, siete contenti del risultato? Sì, troppo. Eh? Vi è piaciuto? Il ghiacciolo, Calippo. Dobbiamo rifarli un altro giorno? Sì. Alla frutta. Non so perché, ma mi va di farlo fragole panna. Perché quello alla Nutella era troppo buono. Ah, sì. È troppo buono. Va bene, dai, salutiamo perché sono quasi le nove di sera. È ora di andare a fare la nanna. E qui... Sì, ma quando ripartiamo, quando ci rivediamo, la mamma ci rivede. Puoi essere ripresa domani mattina. Sì. Ma a te non piace essere ripresa appena sveglia. Sì. Ah, sì? Sì. Mi guardi? Sì. Cosa stai facendo? Stai cercando di tirare fuori il calippo? Ah, mi stai portando le mani. Dai, ragazzi, salutiamo. Salutiamo i nostri amici. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, condividetevi con i vostri amici, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al canale. Quindi, ciao con le mani tutte congelate. Ciao. Ciao.